Il grasso addominale Acqua di melanzane per eliminare il grasso addominale . A chi non dà fastidio il grasso che si accumula nella zona delladdome. Non è solamente una questione estetica, ma implica anche problemi di salute. Per eliminare il grasso addominale bisogna fare uno sforzo e cambiare alcune abitudini di vita. . Un po' di sana attività fisica ed una dieta equilibrata sono indispensabili per raggiungere questo obiettivo. E l'acqua di melanzane può essere un valido alleato? L'acqua di melanzane è un semplice rimedio per perdere peso. . Il contenuto di acqua, fibre, vitamine, antiossidanti e minerali la rendono una risorsa eccellente per bruciare grassi e per fornire al nostro organismo il giusto apporto di nutrienti di cui ha bisogno. . Una volta imparate le modalità di preparazione e di consumazione, l'acqua di melanzane potrà diventare un aiuto fondamentale per ridurre a poco a poco il fastidioso grasso addominale. . Perché le melanzane possono aiutarvi a perdere peso? Le melanzane si caratterizzano per la grande quantità di nutrienti e poche calorie. Sono, inoltre, degli eccellenti diuretici naturali, combattono la ritenzione dei liquidi e hanno un grande potere saziante. . Deve essere chiaro a tutti che se si vuole eliminare o ridurre il grasso addominale, o in generale perdere peso, bisogna cambiare alcune abitudini di vita. Questo significa che l'acqua di melanzane è utile solo se si segue una dieta equilibrata e si pratica sport o una qualsiasi attività fisica per almeno mezz'ora al giorno. . L'acqua di melanzane possiede proprietà depurative e disintossicanti, è priva di grassi e dà pochissime calorie. Il suo apporto nutrizionale, inoltre, è l'ideale per completare una dieta sana ed equilibrata. Quali sono gli altri benefici delle melanzane?. . Le melanzane aiutano ad eliminare il colesterolo. Di sicuro vi chiederete come. . I componenti della melanzane assorbono i grassi degli altri alimenti che mangiamo e che circolano nell'intestino. Eliminano le tossine dall'organismo e regolano il transito intestinale, quindi sono molto indicate in caso di stitichezza. . . Hanno proprietà antiossidanti grazie alla vitamina E e agli antociani, sostanze che proteggono da vari tipi di cancro e dalle malattie cardiache. Le melanzane contengono anche potassio e sodio, elementi importanti per il sistema nervoso e per quello cardiovascolare. . . La fibra della melanzana aiuta a depurare l'organismo, come vi abbiamo già anticipato. Permette, inoltre, di abbassare i livelli di zucchero nel sangue, quindi è un grande aiuto per le persone diabetiche. . . Le melanzane contengono anche acido folico, utile per le ossa. Sono ottime per le persone che soffrono di problemi al fegato perché stimolano l'attività della bile. . Sono delle verdure ricche di magnesio e ferro, quindi aiutano a prevenire l'anemia e a migliorare le nostre difese immunitarie. Come dimagrire con l'acqua di melanzane. . Come e per quanto tempo bere l'acqua di melanzane? Bisogna berla per 7 giorni di seguito. Vi consigliamo il consumo dell'acqua di melanzane almeno una volta al mese perché, oltre ad aiutarvi a combattere il grasso addominale, vi aiuterà a depurare l'organismo. . . . Per una settimana dovete seguire una dieta soprattutto a base di insalate e succhi, oltre a ridurre al minimo il consumo di grassi industriali e di farine raffinate. Dovete bere almeno mezzo litro di acqua di melanzane al giorno. . Un bicchiere prima dei pasti principali. Potete arrivare a perdere 2 chili durante questa settimana. . Tenete presente, però, che il metabolismo varia da persona a persona, quindi anche il numero di chili persi. Oltre a bere l'acqua delle melanzane, potete anche consumarle in altri modi, al forno o bollite, ad esempio. . . . In qualsiasi modo vi piacciano, purché non siano crude. La melanzana cruda è tossica perché contiene un alcaloide chiamato solanina che può provocare vomito e diarrea. Come preparare l'acqua di melanzane?. . . Il procedimento è molto semplice. Sbucciate e lavate una melanzana di medie dimensioni e tagliatela a cubetti. Prendete una caraffa e riempitela con mezzo litro d'acqua. In seguito, aggiungete i cubetti di melanzane. . . Dovrete lasciare riposare l'acqua tutta la notte, per questo vi consigliamo di prepararla un giorno prima e di lasciarla ammacerare durante la notte. Potete servirla fresca e con un po' di succo di limone. . . Grazie al limone, il sapore sarà più particolare e aumenterà anche la quantità di antiossidanti. Ricordate di bere l'acqua di melanzane prima di ogni pasto, per una settimana. Potete fare questa dieta una volta al mese, poco a poco noterete i risultati. . .